E ritorniamo in studio. Ieri si sono aperti i festeggiamenti del quartiere di Sant'Agostino, una a quattro giorni con un programma ricco di iniziative per grandi e piccoli. Domani alle 22 il concerto di Valerio Scanu. Intanto oggi sul palco alle 21 saliranno le band emergenti. Ma sentiamo il programma. Sono stati i cantissardi, i logudoresi e il balletto Gruppo Folk San Giorgio di Usini ad animare la prima serata di festeggiamenti nel quartiere di Sant'Agostino. Ancora tanti appuntamenti sono stati organizzati dal comitato promotore della festa che si terrà fino a domenica. Questa sera intanto alle 21 saliranno sul palco allestito nella principale piazzetta le band dell'Alghè, prima rassegna per band emergenti. Domani sabato quartiere in gioco. Si comincerà alle 17 con gincane e abilità in bike. Poi chi vorrà potrà avvicinarsi al cavallo con delle piccole passeggiate in sella dei cavallini. Ad animare il pomeriggio dedicato ai più piccoli anche i giochi popolari algheresi a cura dell'omnium cultural dell'Alghè. E poi ancora la croce rossa a misura di bambino. La componente giovanile dei pionieri animerà la serata con alcuni giochi e dimostrazioni di soccorso. Alle 17.30 in programma la messa nella chiesa di Sant'Agostino, mentre un'ora dopo si terrà un'esibizione del maestro Simone Cipriani e dei suoi allievi di Muay Thai. Poi alle 18.30 seconda edizione di Achille la tartaruga, la campagna di lega ambiente per promuovere la mobilità sostenibile, sistemi di trasporto urbano in grado di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli. Una gara di velocità tra la tartaruga, ossia la bicicletta, e Achille l'automobile. La partenza sarà da piazza San Marco a Fertilia per raggiungere il quartiere di Sant'Agostino Parco Tarragona. Alle 19.00 letture bibliche in preparazione della festa a cura di Pierluigi Alvao nella chiesa di Sant'Agostino. Alle 22.00 l'atteso concerto di Valerio Scanu ad ingresso libero. Intanto nel quartiere sono presenti numerosi gazebo di varie associazioni cittadine. Non mancano quelli dei dolci e lo stand gastronomico. L'area marina protetta Capocaccio-Isola Piana, oggi alle 19.00 nell'aula del Consiglio Comunale di Via Columbano, presenterà le trame del mare, l'area marina protetta di Alghero raccontata per immagini. Ultima fatica editoriale dell'AMP curata dal direttore Gianfranco Russino e dal naturalista Alberto Ruiu e realizzata da Online Group di Roma. Il volume di quasi 200 pagine costituisce una vera e propria raccolta di spettacolari immagini, tutte scattate in AMP da diverse persone. Alla presentazione interverranno il sindaco di Alghero Lubrano, Speranza Fadda, funzionaria del Ministero dell'Ambiente, Gabriele Esposito, presidente del Consiglio Comunale. La presentazione affidata a Salvatore Rubino dell'Università di Sassari sarà introdotta dalla proiezione, in prima assoluta, di un breve video dedicato in particolare ai meravigliosi fondali dell'area protetta e alle sue attività. Parte delle musiche sono state composte ed eseguite da un giovanissimo studente dell'Istituto Musicale Giuseppe Verdi di Alghero. E passiamo allo sport, spazio all'eccellenza. Parliamo oggi del Fertilia, che ha completato un mese di preparazione in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia con il latte dolce, la formazione di Mr. Paba continua ad allenarsi e a disputare gare amichevoli. Domani partita con la pietraia. La data d'inizio del campionato di eccellenza si avvicina, è fissata per il 16 settembre e le squadre che dovranno affrontarlo in questa stagione sono impegnate nella tradizionale preparazione atletica. Il Fertilia ha completato la quarta settimana agli ordini di Mr. Massimiliano Paba e naturalmente con il preparatore atletico Gianni Madeddu. La squadra è quindi a lavoro da un mese. Come già detto, sono tre i nuovi innesti di quest'anno. Intanto Andrea Martinez, l'attaccante algherese, è ritornato a vestire la maglia Giuliana dopo alcune esperienze in altre squadre sarde, tra le quali il Muravera. Altro algherese in forza al Fertilia quest'anno, il portiere Francesco Angioi. Preso dalla Torres, il centrocampista Carlo Piga. La rosa è completa, ma non è escluso che possa esserci qualche altro arrivo che la rinforzi oltremodo. Intanto il Fertilia ha già disputato due amichevoli di lusso. La prima con il porto Torres, squadra che milita in serie D, con la quale ha ottenuto un pareggio per 1-1 e con la Torres, con la quale invece ha perso per 2-0. Intanto, in vista del primo appuntamento ufficiale di questa stagione 2012-2013, ovvero la gara di andata di Coppa Italia in casa del latte dolce il prossimo 2 di settembre, sono previste altri due amichevoli. La prima in programma domani con la Pietraia Alguero, mentre l'altra il prossimo giovedì con il Bosa. Vedo ragazzi immotivati, ha dichiarato Mr. Paba. C'è tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Questo mi fa ben sperare per la stagione che sta per cominciare. I nuovi arrivi, ha continuato, si sono ben integrati con il resto della squadra. Sono contento di allenare questo gruppo che vedo già affiatato. La Nettuno comunica che lunedì 27 agosto alle ore 17 presso il campo insintetico di Santa Maria La Palma in occasione dell'iscrizione della squadra giovanissima al campionato FIGICI ha organizzato un raduno dei giovani calciatori nati negli anni 98-99-2000. I partecipanti saranno visionati dai due tecnici e giocatori Massimo De Martis e Alessandro Gadau, attuali colonne del Porto Torre Scalcio. E dal pallone allo Judo, dopo dieci anni, ritorna nella Rivera del Corallo il prestigioso Trofeo Internazionale Femminile di Judo, città di Alghero. Un quadrano golare a squadre per nazioni e gare di cata di altissimo livello vista la partecipazione di diversi atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi di Londra 2012. La società sportiva Judo Club Alghero, dopo dieci anni di interruzione, organizzerà il 15 e 16 settembre la ventesima edizione del Trofeo Internazionale Femminile di Judo, città di Alghero. La competizione, straordinariamente patrocinata dalla regione Sardegna, assessorato allo sport, non si svolgerà con la formula individuale come per le altre edizioni, ma sarà un quadrangolare a squadre per nazioni e sarà integrata con una gara di due cata, il Nage no cata, cata delle proiezioni, e Kodokan Kojinjitsu cata dell'autodifesa. La gara si preannuncia ad altissimo livello, infatti hanno aderito le nazionali di Slovenia, Italia, Ungheria e Francia per quanto riguarda lo sciai, il combattimento, e le coppie di Spagna, Italia, Belgio e Germania per quanto riguarda i cata, cioè le forme. Fresche dalle ultime Olimpiadi di Londra 2012 parteciperanno la campionessa olimpica slovena Urska Zollner, la campionessa olimpica francese Lucy de Kost, la medaglia di bronzo l'ungherese Cernovinsky Eva, l'italiana Rosalba Forcinti e le francesi Auton Pavia e Gavris Eman. Grandi campioni anche per i cata, da Italia, Spagna e Belgio e Germania, le coppie partecipanti. I nostri connazionali Ubaldo Volpi e Calderinzi Maurizio e del Kodokan Kojinjitsu, campioni europei 2012 e argento ai mondiali 2011, Enrico Tommasi e Diego Tommasi nel Nage no cata, bronzo ai campionati europei di cata 2012, si confronteranno con gli spagnoli Jesús Verano e Maximo González, argento ai campionati europei, sempre del 2012, e bronzo ai mondiali dell'anno precedente. Con i belgi Gilon Nicolas e Gilon Jean Philippe, argento ai campionati europei 2012. Una grande soddisfazione per il maestro Gavino Piredda, presidente e direttore tecnico dello judo club alguero, da sempre promotore di grandi eventi sportivi come questo. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto al meteo e vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.